All'interno della settimana Bergamo include, organizzata dall'assessorato all'istruzione e dall'assessorato alla coesione sociale intorno alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che sarà il 3 dicembre, nelle scuole quest'oggi abbiamo indossato la maglietta che avete visto. È una maglietta che ci ricorda che ciascuno di noi è diverso e che sta dentro un sogno, una possibilità di esprimere le proprie potenzialità tanto maggiore quanto più costruiamo contesti accoglienti e inclusivi. È il lavoro che attorno al tema dell'assistenza educativa scolastica tutti gli operatori e l'assessorato stanno cercando di condurre insieme alle scuole della città. Abbiamo poi un'attenzione specifica sul tema sport e disabilità, stiamo diffondendo materiale informativo delle associazioni che in città consentono di svolgere sport paralimpici e che arriverà a tutte le famiglie.